Successo strepitoso della diciassettesima corsa podistica portichese a Portico di Caserta con la presenza di migliaia di attialeti giunti non solo dalla regione Campania ma anche da altre regioni. Davvero impressionante il numero esponenziale della presenza record delle società sportive che ha elevato il tasso di qualità sportiva della corsa podistica portichese storica per eccellenza e che vanta 17 anni di storia. Una delle gale più prestigiose grazie alla storia del team Iodice ed anche alla costanza dell'attività sportiva che grazie a suo team riesce sempre a far emergere forti emozioni e infiniti ricordi. L'evento è stato organizzato dal team Iodice podistica portichese giunto alla diciassettesima edizione secondo memoria al luogo tenente dei carabinieri Baldassarre Nero in sinergia con il comune di Portico di Caserta, campionato regionale Xen sulla distanza di 10 chilometri con il patrocinio Sport e Salute Campania della regione Campania della provincia di Caserta, del comune di Macerata Campania e con la collaborazione della tifata Runners Caserta, Marathon Club Gelinto Bordin, APS Siamo Portico, APS Riforma del Pensiero e APS, APS Tradition Canta e Suona Sant'Antuono. Dopo aver attraversato Portico di Caserta i podisti giungevano a Macerata Campania dove si formava il primo gruppo di testa costituito da Feola, Podistica Normanna, Suppa Security International Service, Farina Tifata Runners Caserta, Barra Run4Love, Silvestri Amatori Vesuvio, Valeria Adamo Podistica San Maritano, Gennaro Betti Atletica Riardo, Tartaglione Atletica Marcianise. Nel frattempo il secondo gruppo riusciva a mantenere il ritmo del gruppo di testa. I ritmi erano abbastanza elevati anche se il caldo influiva ma i podisti erano molto resistenti e riuscivano a mantenere i ritmi determinati dal gruppo di testa. Di conseguenza nel secondo gruppo era formato da Cecere Podistica Frattese, Salvatore Russo Amatori Marathon Frattese, Leonardo Ferraro Road Runners Maddaloni, Bartolomeo Pirozzi International Security Service, Raffaele Di Giuseppe Amatori Marathon, Frattese Antonio, Bate Atletica Nolana. Facevano Capolino e Ndrampe per le donne Teresa Stellato e Francesca Maniaci dell'Atletica Marcianise. Nell'incrocio con Via Roma intorno al quinto chilometro il ritmo si manteneva costante ma il gruppo di testa resisteva sia al caldo che al sole come se vince dalle immagini. Il quintetto era formato da Suppa International Security Service Farina della tifata Runners Caserta, Gennaro Betti dell'Atletica Riardo Barra Run For Love, Francesco Feola Podistica Normana. Il quintetto però ad un certo punto della gara si frammentava con Barra che perdeva il ritmo e Feola che non riusciva a competere con il gruppo di testa. Attraverso il tempo il gruppo di testa si faceva sempre più piccolo e si dimensionava offrendo la possibilità a Gennaro Betti dell'Atletica Riardo, a Roberto Suppa dell'International Security Service e ad Antonio Farina della tifata Runners Caserta di potersi destreggiare al meglio e rassicurare la propria posizione. Affascinante nelle retrovie la corsa che assumeva sempre di più una dimensione storica facendo immergere gli atleti nella portico di Caserta di una volta. Il pubblico per strada applaudiva stimolando gli atleti a poter raggiungere il gruppo di testa. Davvero uno status emozionante, intanto la gara veniva gestita fino al settimo chilometro quando oramai la sfida diventava netta tra Gennaro Betti e Roberto Suppa. Era proprio Gennaro Betti che negli ultimi 400 metri incrementava il suo ritmo in corso vittorio dove poteva giudicarsi la gara ed era proprio Gennaro Betti dell'Atletica Riardo a tagliare il traguardo con un tempo di 33 minuti e 24 secondi. Seconda posizione per Roberto Suppa dell'International Security Service con un tempo di 33 minuti e 25 secondi. Terza posizione per Francesco Feola di Podistica Normanna, quarta posizione per Barra Run for Love, quinto posto per Antonio Farina della Tifatranes Caserta, sesta posizione per Adamo Valerio della Podistica San Maritana, settima posizione per Luigi Silvestri di Amatori Vesuio, ottavo posto per Antonio Tartaglione di Atletica Marcianise, nono posto per Giuseppe Angelillo di Atletica Nolana, decima posizione per Russo Salvatore di Marathon Frattese. Per la categoria femminile vinceva Teresa Stellato di Atletica Marcianise, seconda posizione per Francesca Maniaci, Atletica Marcianise, terzo posto per Anna Trinchillo, International Security Service.